Per consentire ai clienti di esplorare il tuo sito web con facilità, il sito necessita della massima semplicità di navigazione. È proprio vero. Quante più categorie e sottopagine ci sono, tanto più complesso e confuso diventa il sito per i clienti. Il nuovo Mega Menu risolve questo problema. Se un cliente passa il cursore su uno dei punti del menu, viene visualizzato un ampio menu in cui sono elencate tutte le sottocategorie e sottopagine del sito web. In questo modo, i clienti riescono a trovare con maggiore facilità quello che stanno cercando. Il Mega Menu è già stato integrato in alcuni dei modelli di progetto. Per inserire il Mega Menu nel tuo sito web, fai clic su Progetto nella barra dei menu e quindi su Progettazione rapida. Se necessario, crea una copia di backup del progetto attuale. Viene ora visualizzata un'anteprima del tuo sito web. Puoi inserire il Mega Menu nelle aree della pagina in Testazione 2 e superiore. A tale scopo, fai clic sull'icona con il simbolo più nell'area della pagina corrispondente. Dall'area dell'argomento Categorie e prodotti, seleziona l'elemento di pagina Mega Menu e fai clic su Inserisci. Ora rimangono solo da specificare le impostazioni. Ad esempio, seleziona un colore dello sfondo e specifica il colore del carattere per la categoria e la sottocategoria. Facendo clic su Applica, il Mega Menu viene inserito nel tuo sito web. Se necessario, rimuovi il vecchio menu dal sito web, passandoci sopra il cursore e facendo clic sull'icona del cestino. Fai clic su Visualizza il tuo sito per visualizzare il Mega Menu dal vivo nel tuo sito web.